che salto grazie grazie ecco la fessura la e dell'altra parte si slarga ma non è grave non si sa il lavoro vediamo 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 non si è grave non si è grave non si è grave ligaremo con le cadene anche un poco sta roba non si sa mai ecco da dove si viene una scarica qua bisogna mettere due redi fare un bel lavoro con le redi mettere due cadene e ha fatto un lavoro fantastico bravi muli quasi andiamo su madonna quanto si è alto qua di giorno perchè sempre di notte quanto materiale abbiamo fatto ora qua allora l'ho aperta dote scampi capocantier si controlliamo sempre e non responsabile è tuo fratello no? il progettista di Piero 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 si va bene buono alla prossima fatta grazie allora che bene